Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. Prima l'Europa League, poi il campionato di Serie A per i Bianco Celesti e ne arriva un doppio appuntamento allo Stadio Olimpico. Questa sera alle 21 la Lazio affronterà il Fair Nord, domenica dalle 18 invece sarà tempo di Lazio-Verona. Previsto il consueto piano viabilità con divieti di sosta nelle strade intorno al Foro Italico già diverse ore prima delle partite. Per quel che riguarda il trasporto pubblico, l'area del Foro Italico lo ricordiamo è raggiungibile con 14 linee di bus in arrivo da diversi quadranti della città e con i tram della linea 2 che viaggiano tra Piazzale e Flaminio, stazione Flaminio della linea A della Metropolitana e Piazza Mancini. L'elenco dei bus è consultabile in dettaglio su romamobilità.it.